ciao e benvenuti in un nuovo video allora si avete visto ecco una delle prime novità di quest'anno che abbiamo anticipato blissim vi faccio vedere questi box allora blissim è un abbonamento mensile di beauty box ed è che è nata in francia avete visto un qualche anticipo di collaborazione con il calendario dell'avvento questa box che è nata in francia ed è disponibile anche in italia quindi spedisce anche in italia era già stata nominata tempo fa ma adesso c'è questa collaborazione che spero che vi piaccia molto dunque da anticiparvi subito che il sito blissim finalmente è arrivato anche in italia non come spedizione perché quello fa sempre ma proprio blissim italia quindi senza le spese di spedizione senza c'è proprio un sito italiano che spedisce dall'italia è ancora in fase di aggiornamento cioè è attivo però le box non sono proprio uguali a quelle francesi io al momento trovo che siano dovessi scegliere più valide quelle francesi cioè con una gamma di prodotti diversa il sito blissim italia ha molte marche già conosciute ma veniamo alle box intanto allora siamo partiti con la box di febbraio vi anticipo subito che qui nell'info box come sempre ci sono tutti i codici sconto attivi e ce ne attivo anche uno sul sito blissim francia di 10 euro di sconto sul vostro primo acquisto quindi mi sembra un buon codice sempre non affigliato le box mensili questo caso queste costano 16 euro e 90 più spedizione si può annullare o sospendano in qualunque momento con la spedizione viene al prezzo di 20 euro finito 20 euro mentre sul sito di blissim italia sarà solo 16 90 finito con la spedizione inclusa quindi questa è una cosa da tenere in considerazione per eventuali abbonamenti al momento trovo che al momento trovo che le marche e dei prodotti siano più interessanti da quelle francese ma teniamo d'occhio il sito italiano anche perché attualmente i codici sceglio con loro e le box meno spirito loro allora succede spesso e poi dopo le apriamo perché vorrei farvi vedere anche voi perché io le sono tolte dalle scatole queste perché c'erano i dati e vorrei aprire anche io succede che ci possano essere delle box mensili dove potete scegliere se avviene la box misteriosa del mese oppure una boss monotematica in questo caso vi dico subito che c'era per febbraio la possibilità di avere una box monotematica polar che mi sembra un ottimo marchio soprattutto per il periodo invernale oppure la box misteriosa quindi ho pensato dato che era il primo video mandate fate mandarmi così allora la box polar così vediamo subito quali sono ed è i prodotti e la gamma di prodotti però volevo vedere anche la box la misteriosa quella classica del mese ma dato che non avevano ancora disponibile quella del mese il febbraio mi hanno mandato qua di gennaio che comunque nello shop è disponibile quindi non c'è più e la sorpresa delle chissà che poi ci sono però è disponibile quindi è ancora attiva allora le box sono queste e io senza aprirle come faccio a capire questa questa è la box di febbraio di almeno per il momento cerco di fare questi video ed è così veloci senza andare nessuno lo studio sapete che preparato tutte le postazioni nuove per devo tirare fuori tutto cerco di fargli questi video così veloci quindi scusatemi un pochino per le luci per farvi vedere i prodotti e nel caso la box è ancora disponibile per l'acquisto quindi potete anche decidere di scegliere solo quella perché l'abbonamento è di una box singola dell'abbonamento trimestrale o semestrale quindi c'è anche la possibilità di questo vediamo la box della polar che è quella monotematica ed è fatta così mi piace tanto queste scatoline ok infatti c'è con edizione limitata ok ok i prodotti del mese e si vedono con il calcio qr quindi non c'è più un libricino va bene va benissimo perché meno carta che gira ok questo cos'è bliss in per la la lab è un codice per le foto sulla la lab però non so se disponibile in italia lo proveremo perché direbbe di creare 20 foto scade maggio quindi lo proveremo ok vediamo ai prodotti polar che è quello che ci interessa la prima cosa che vedo qui e questi che carini sono questi mini patch per gli occhi che dico che carini perché questi vanno in frigo ed hanno questo gel che si rinfresca e vanno sotto il contorno occhi per decongestionare le borse occhiaie ne ho diversi di quelli a mascherina che si mettono su tutto l'occhio e quelli soprattutto in primavera quando inizia l'allergia sono fantastici e quindi questi più piccini ed è riutilizzabile ovviamente sono fantastici non non so se sono loro come omaggio ma geniali e ora uno due tre quattro cinque prodotti partiamo da sinistra andiamo a destra allora ecla boreale crema lisciante olivier de siberre ok partiamo bene smoothing a crema quindi una crema lisciante liftante perfetto istantaneo ottico questo è un saranno tutte travel sites ovviamente però formato vendita sapete che è una cosa che io guardo sempre però se in tutto questo ci fosse anche la quantità a me non dispiacerebbe c'è sicuramente ma arancione su sfondo argento è la cosa migliore di questo mondo ok e vabbè da qualche parte ci sarà sarà un 30 ml vediamo si è aperto è chiuso ma intanto io questa la provo quindi possiamo tranquillamente aprirlo ne basta meno di quella che ho messo però ha un bell'effetto quasi senza profumo ha un bell'effetto assorbe subito quindi va bene anche sotto il makeup ed è una cosa che proverò e vi saprò dire poi andiamo avanti ecco questo è piccino questo è un 10 ecco se ha scritto qui no non è scritto neanche qui in questo però sì questo è un 10 ml e credo che sia un full size ok e il balsamo labbra con dei veritabili creme della lapponia ok è questo non mi ricordo se l'avevo già provato però balsamo labbra fatto così in sticker questi sono comodi a mio avviso da mettere in borsa ed è anche perché si possono applicare sempre e questo è un full size non mi ricordo se l'ho provato sinceramente con i balsamo labbra sono sempre alla ricerca e al test di prodotti diversi se non l'ho provato e non credo perché se non avrei parlato meglio ne ho uno nuovo da provare andiamo avanti con questo questo allora questo è un 20 ml e questo è più grande quindi questo sarà un 30 quello il primo che vi ho fatto vedere questo è un 20 nuit polar quindi sarà una crema notte rivitalizzante con alghe boreali ok questa qui e questa apriamo anche questa perché tanto le metto subito da provare perché sono curiosa e poi il periodo è questo profumo leggero leggero ma vediamo la crema bella ricca bella ricca ma effettivamente una crema notte che però in questo periodo alla sera non mi dispiace avere una crema più ricca anche se ho la pelle mista una volta stesa ha un profumo fresco mi piace mi piace il profumo penultimo prodotto questo è un 25 ml la veritable crema crema mani fantastico della crema della I3 byzes non so cosa sia artici tre bacche artiche non lo so non vorrei dirvi cavolate arricchita con idratante nutriente protettivo perfetto è un 25 ml piace anche il fatto che sia tutto bello chiuso e poi le creme mani sapete che ho una leggera leggera passione per le creme mani quindi è corposa però quella piccola quantità che ho messo assorbe molto velocemente mi piace ultimo prodotto quindi sono due quattro cinque e le sei colpacci occhi questo è un non lo so quantità crema idratante al source de grassier ice source crema idratante va bene è questa qui se era in inglese era meglio francese l'ho studiata ma ho qualche problema forse dovevo prepararmi prima forse dovevo leggermi QR ma no ed è più bello così ora che sono bella incremata però il problema sarà aprire sì sì ce l'ho fatta così mi sembra più eh sì questa è più leggera sono molto incremata comunque è anche questa uh questa è più leggera quindi direi che comunque abbiamo la crema mani aspettate è vero che è tutto in mini size ma è un mini size travel cioè formato comunque vendita e comunque che si può provare allora il patch occhi per me è fantastici poi abbiamo il balsamo labbra e la crema mani dov'è e la crema mani quindi ah stessa linea rossa poi abbiamo vediamo così la crema idratante che è leggera quindi va bene per il giorno il siero lisciante che va bene anche come primer e la crema notte secondo me è un set carino per provare il marchio perché no comunque sono 20 euro per provare il marchio ora non so il valore della box ma la trovo simpatica ma adesso oggi dove ho messo l'altra eccola qui questa è la box di gennaio così dato che le ragazze devono ancora ricevere quella di febbraio non hanno spoiler è quella di gennaio con il fatto di essere misteri per far vedere che cosa potrebbe contenere una box mista classica che arriva a tutti i mesi quando non c'è la possibilità di avere quella in edizione limitata perché quelli saranno stagionali febbraio con san valentino e con l'inverno poi immagino che la prossima sarà in primavera o in estate quindi gli altri mesi c'è questa che anche questa era ancora chiusa e si capisce allora dice gennaio 2023 winter bliss ah qui il libretto c'è ok c'è anche il QR ma c'è proprio il libretto con anche alcuni consigli istruzioni edizione limitata routine viso garanzia anche questa qui dovremmo guardarla non sapevo che esistesse ok basta andiamo a vedere cosa contiene questa allora prendete una tazza prendete una tazza di panda tea scusate ve la mostro così la vedete anche voi ecco panda tea è questo qui let's go fit allora deliziosa la confezione intanto non lo conosco panda tea punto fr e è un tè morning boost detox bruciagrassi con boost l'energia faticante contro la ritenzione idrica e c'è anche un codice sconto non so se è valido in Italia però ok è chiuso non ha profumo però sarei curiosa di vederlo sappiamo che i tè non possono fare miracoli però un aiuto è sicuro allora qui abbiamo uno due tre quattro cinque prodotti quindi il tè probabilmente è un omaggio in più vediamo partiamo da una parte andiamo dall'altra e andiamo con questo che è huijens crema viso mamma mia acidoglialuronico bio la confezione è da 12 ml eccola qua la vedo leggera buon profumo che buon profumo mi piace è buono il profumo si è leggera sta velocemente quindi adatta un po' per tutte le stagioni ricordiamoci che io sono ancora in cremata da prima i prodotti della Polar sono molto idratanti per quanto riguarda i prodotti da tanti i prodotti da tanti ma va allora questa la vedo un po' full size crema conditioner balsamo con olio di mandola dolce proteine della mandola e oliva 100 ml l'essecre de l'oli quindi è un balsamo senza coloranti siliconi ok va bene programma per tutti i tipi capelli dal 2b al 4c e è questo è un 100 ml e che che numero che numero sono i miei capelli allora per capelli mossi bucli proteggi più brillanti concentra ok allora formato vendita 250 ml a 17 euro mentre questo è un 100 ml quindi il prezzo non lo so i valori facciamo che i valori non non li valutiamo a capelli ma dei prodotti per capelli mossi bucli perché ricci non è bucli mossi ok 100 ml è un buon formato io lo provo e vi dico e adesso andiamo avanti perché qui abbiamo ah hello body aloe site adan e gel cream 15 ml quindi full size gel crema idratante hello body un marchio che ho sempre sentito ma non ho mai provato confezione è questa e a questo punto andiamo a provare anche questo prodotto allora vediamo un po' eh si è proprio un gel leggero direi che un pump va bene per tutti e due gli occhi a questo punto io i yellow body che so che sono abbastanza costosi ma anche validi voglio andare a vedere invece il mezzo sono curiosa così 29,99 il formato da 15 ml che è quello che abbiamo quindi già questo è superiore alla box e trovo che sia valido anche perché con tornocchi come le creme mani io li testo tutti così allora ecco un altro prodotto che mi può interessare questo è la rosè stick labbra nutriente quindi un bassamo labbra classico e full size della la rosè nutriente è chiuso e credo di dovermi pulire le mani prima di riuscire ad aprirlo non l'aprirò mai facciamo che andiamo avanti e poi lo apriamo dopo così provo ad aprirlo e intanto che cerco di aprirlo vi dico il prezzo devo attrezzarmi meglio per i prossimi video ragazze però questo era per farvi vedere un attimo allora 4,8 4,5 grammi 7 euro e 50 cavolo è un bel balsamo labbra quindi non so se davvero vale così tanto ma intanto sono riuscita ad aprirlo è classico mi piace perché sia bianco perché così lo si può mettere bianco senza colore perché così lo possiamo mettere tranquillamente in borsa ed applicare anche senza guardarlo ultimo prodotto che non so cos'è paese eccolo qui blush ok andiamo a vederlo perché io questo non lo conosco eccolo qui paese blush ok 9 grammi ah no 4 grammi 9 euro quindi questo è un 4 grammi si può essere non c'è scritto ma può essere andiamo a vedere il colore pigmentato e pigmentato diciamo che si sfuma anche bene ok proviamo e vi faccio sapere allora ricordiamoci che il prezzo di questa box è di 20 euro sarebbe se diceva 90 ma 20 euro per la spedizione abbiamo un blush full size il balsamo labbra full size e e il hello body per i contornocchi full size che già questo abbiamo visto che supera il valore della box poi abbiamo in travel size la crema idratante per il viso e il balsamo per capelli che sarà un travel ma è comunque che sia un bel formato a questo punto ah scusatemi non mangiare anche il panda tea che comunque è un tè detox che ci piace a questo punto io sarei curiosa di sapere da voi se conoscevate questo marchio cioè Glissim se vi piace questa nuova collaborazione se vi incuriosiscono i prodotti oppure se non ve ne frega niente quindi li faccio nei video per mostrarli e basta se li seguirete se conoscete le box se siete abbonati se vi incuriosiscono i prodotti fatemi sapere tutto che sono curiose e niente cerco nei prossimi video di magari farli nella postazione ed è un po' più professionale ma per mostrarvi i prodotti e le box che sono ancora disponibili in vendita mi riservo che fosse il minimo e adesso basta parlare e vi do appuntamento al prossimo video ciao